Non c'è da stupirsi, ma da preoccuparsi sì, e come. La decisione di uscire dall'accordo sul clima di Parigi, Trump, la covava da tempo e più volte l'aveva preannunciata e giustificata, con un mix di protezionismo in campo economico e negazionismo in campo ambientale. Della serie, il riscaldamento climatico è una balla e comunque io difendo gli interessi degli americani, che poi è quello che ha detto ieri. Ci ritiriamo dagli accordi e cominciamo subito dei nuovi negoziati a condizioni più eque per i lavoratori americani. Sarà, ma Trump non vedeva l'ora di stracciare l'intesa firmata quattro anni fa da Obama e da altri 195 paesi. Tant'è che ha scelto il primo giorno utile per avviare la procedura di recesso, che comunque si concluderà tra un anno, cioè durante le presidenziali. L'ambiente sarà un tema di scontro della campagna elettorale tra i democratici, soprattutto le nuove leve come Alexandria Ocasio-Cortez, che ha lanciato un Green New Deal, e i repubblicani, che difendono l'industria tradizionale fondata su combustibili fossili. Proprio quelli nel mirino del Trattato di Parigi, che punta a contrastare il riscaldamento globale, riducendo le emissioni di anidride carbonica, uno dei gas serra più pericolosi. Adesso che gli Stati Uniti si ritirano, anche se metà degli stati della federazione si dissociano e vogliono mantenere gli impegni, saranno India e soprattutto Cina a dover fare uno sforzo in più. Il presidente francese Macron, che in questi giorni è a Pechino, chiederà a Xi Jinping di rispettare il patto di Parigi, anzi, di renderlo irreversibile.